Il Cilento International Music Festival giunge alla sua seconda edizione grazie all'entusiasmo riscontrato lo scorso anno da parte di un folto pubblico che ha espressamente premiato l'iniziativa con una presenza attenta e costante. Un segnale davvero notevole per un territorio sempre più orientato ad eventi culturali di un certo rilievo, ma soprattutto una prova che gli eventi spesso considerati di nicchia hanno solo la necessità di un'opportuna diffusione affinché possano ritrovare l'interesse della maggioranza. La banca per il secondo anno sponsorizza l'evento e noi ci teniamo molto perché nell'ambito delle iniziative che abbiamo curato quest'anno rispetto alle politiche sociali, questo è uno dei punti più importanti che stiamo sostenendo per promuovere nel Cilento la musica, non solo la musica classica, ma al di là della musica autori e esecutori importanti che provengono da tutto il mondo e che diversamente non approderebbero nel nostro Cilento. E' l'occasione anche per organizzare con Luciano e Mauro Tortorelli, con Angela Meluso, l'appuntamento con il convegno nazionale dell'Esta. Ovviamente in quell'occasione che si terrà poi ad ottobre avremo modo di relazionare con violinisti di fama internazionale ma anche con giovani promesse che dal Cilento tentano come dire la strada dei concerti, la strada della musica e sono già oggi dei bravissimi professionisti. Un'iniziativa immediatamente promossa dalla BCC Buccino Comuni Cilentani appartenente al gruppo bancario cooperativo ICREA che ha saputo cogliere i vari riscontri positivi per il territorio. La direzione artistica del festival, affidata ai maestri Luciano e Mauro Tortorelli ed Angela Meluso, concertisti attivi a livello internazionale, preferisce promuovere eventi musicali scommettendo anche sulle nuove generazioni di musicisti. Insomma una rassegna che cerca soprattutto di accontentare in un certo senso il pubblico cilentano perché per quanto ci sia un preconcetto per la musica classica, io penso, ho visto, abbiamo constatato, anzi anche insieme a Giovanni Pico, che c'è un pubblico nutrito e interessato, un pubblico che richiede questo tipo di manifestazione. Questa è una cosa molto bella per noi che abitiamo qui nel Cilento e anche perché assistiamo a un fenomeno che poi è anche una conseguenza della globalizzazione. Cioè ormai non esiste più la città che organizza gli eventi più importanti e la periferia che diciamo di conseguenza organizza eventi meno meno importanti. No, adesso può esserci anche il fenomeno contrario, cioè può essere anche la provincia a richiamare il pubblico delle città ed è quello che succede con questo festival perché già so di maestri, di concertisti, di appassionati di musica che verranno da Napoli, da Avellino, da Roma proprio per seguire questi artisti. È un po' quello che diceva prima anche Giovanni. Insomma è un'iniziativa che è nata soprattutto perché sotto lo stimolo anche della BCC perché noi eravamo sempre impegnati con concerti in giro per il mondo e abbiamo pensato che tutto sommato è anche giusto realizzare qualcosa di bello nella terra che noi amiamo, cioè il Cilento. Ebbene, quindi sulla scia del successo dello scorso anno si è voluto riproporre appunto questo festival. Ricordiamo ai telespettatori di Cilento Channel che ci saranno quattro appuntamenti dedicati appunto a questa musica. Dove e a che ora? Allora, il primo è il concerto del chitarrista Luis Quintero al Castello di Agropoli in collaborazione anche con il Settembre Culturale. Quindi chi desidera ascoltare magari prima l'evento del Settembre Culturale alle 19 potrà attenersi perché il concerto del nostro festival si tratta alle ore 21 nella Sala dei Francesi. Successivamente l'altro concerto sarà il 28 di settembre alla chiesa di Santa Maria Mare con il chitarrista appunto Stefano Sergio Schiattone. Il concerto successivo sarà la domenica appunto del 29 settembre alla Sala Concerti del Palazzo Maronale di Torchiara alle 21 con il duo Matò, chitarra e violoncello e il concerto di chiusura col 12 di ottobre sempre alla Sala Concerti del Palazzo Maronale di Torchiara. Sala Concerti del Palazzo Maronale di Torchiara